Eccoci qui, eccoci qui con il pianista dell'orchestra di Domenica Iida. Nome e cognome? Max Tempia. Tempia, da dove vieni? Di Biella, sono, piemontese. E adesso che fai, riparti per Biella? Adesso riparto e vado su. Fai in treno? Sì, finita la diretta vado su. Ma da quante stagioni? Dal 2018 che sono qua. Dal 2018, quindi è un bel pezzo. Sì, sì, è un bel pezzo. Ormai siete affiatati proprio. Sì, certo, certo, sono tanti anni. Quanti siete nel gruppo? Siamo in sette. I sei? In sette. Sette? In sette dell'Ave Maria. Sì, esatto, in sette dell'Ave Maria. Allora, saluta Mimara.